E' l'ultimo avvertimento! La Justice League è proprio qui per mettere fine alla vostra scelleratezza! Diamo fuoco alle botte! Scusate! Stargirl! Guarda dove colpisci! E tu guarda dove voli! Ci penso io! Kajita! Spada! Pensate che sia la prima volta che io e il grande generale Zod combattiamo contro la patetica Justice League! Puniremo la gente di questo pianeta... ...per la nostra incarcerazione! Come abbiamo fatto a cacciarci in questo pasticcio? Perché mi guardi in quel modo? La Fortezza della Solitudine è la sede secondaria della Justice League se accadesse qualcosa alla Watchtower! In quanto membri, vogliamo che familiarizzate con i suoi sistemi di sicurezza e la sua struttura! Un gattino alieno! Sei così carino! E' appiccicoso! Non toglie che sia carino! Se vi piace quello, adorerete quest'altro! Benvenuti nella sala di Kripton! Contiene uno degli strumenti più importanti di tutta la Fortezza! Il proiettore della Zona Fantasma! Una dimensione sicura distinta dalla nostra! Il mio popolo lo usava per trasportare i criminali nella Zona Fantasma! Gattino alieno! No! Hai peggiorato le cose! Lo sistemo io! Ci sono due pulsanti, giusto? Voglio dire quanto può essere difficile! Aspetta, Ronald! Non penso che dovresti... ...sghiacciarlo! Ok, è vero, ma tanto per la cronaca! Blue Beetle le ha peggiorate! Ci penso io! Dovrebbe essere facile! Se non si espongono al sole giallo della Terra, i kriptoniani sono dei criminali qualunque! E... è impressione mia? Oppure c'è davvero tanto silenzio? Ehi, dove sono? Musica proposteades! Per come un po' oppure ciudge! No! Ma altra, quel po' att av fanno alla Cassandra!? Qunotpare la relazione!